L'uomo è tutto lo stivale, una mela non va uguale, mi linda, come? L'uomo è bene? Certo. Sei sicuro? Mogli a pezzi, in prima tv assoluta, stasera la terza puntata delle due e trenta su canale 5. La gelato merenda san montana, con stesso blocco. La gelato merenda, la gelato merenda ha trovato gelato in casa san montana. La gelato merda l'uomo è tutto lo stivale, sento bene? Impara divertente con Nintendo DS